devi sistemare la figlia questa è bloccata what the hell is this? me lo chiedo anch'io è inquietantissimo è bellissimo e inquietante allo stesso tempo io sto adora mi abbandono tutti nooo non è vero non voglio restare solo non può essere il suo vero fantasma non può essere il fantasma di mia non è possibile non può essere il suo fantasma oh che bel posticino vada una tomba a Beneviento 1987 sei morta a nove anni questa tomba se guardi la mappa è un tesoro quindi c'è il modo di aprirla ci sarà il modo di aprirla quindi piacerebbe ma ho la sensazione che ci vorrà un po' aprirla non penso che la puoi aprire così sto impazzendo ma grazie però la potrei aprirla immaginavo che non potevi adesso sei nel mezzo di una sequenza ma figurati Andy guarda ci sei tutti i giorni sei sempre qua Andy io volevo in qualche maniera volevo mostrare il mio apprezzamento volevo mostrare il mio apprezzamento col minimo che posso fare quindi chiave a quattro no questa no chiave di Luisa magari neanche chiave con stemma di ferro no rinuncia ai tuoi ricordi la foto di famiglia la foto di famiglia rinuncia ai tuoi ricordi mamma mia che brutto rinunciare alla cosa più importante che ha sono le cose più prezziose posso anche passare se la fai tardi per fortuna ma raccontami un po' cos'è sta storia delle otto ore di lavoro ti sei trovato un lavoro da otto ore cavolo spero almeno che sia fisso perché se devi lavorare otto ore almeno che che ti hai un lavoro fisso cavolo è pesante è pesantissimo è pesantissimo otto ore di lavoro ce la spaccassi la schiena dunque ciao ragazzi io sono Jack Leone Max uno streamer piemontese che non ha l'accento piemontese neanche a pagarlo nada ho fatto un colloquio ah il colloquio anch'io ho fatto il colloquio con le poste ma chi li ha visti oh cos'è vi spiego cosa sta succedendo stiamo andando è una zona che non dovrebbe essere molto spoiler stiamo entrando in una casa la casa Beneviento e abbiamo un po' di jump scare abbiamo un po' di jump scare non dovrebbe succedere nulla di male ma se succede vieni con me ma se succede qualcosa di male beh voi mi avete conosciuto potete dire l'abbiamo conosciuto questo bravo uomo e il lavoro sembra molto ma molto buono qua è una cosa importante intanto ciao carmelone come sta il nostro carmelo come sta il nostro carmelo ok vieni con me stiamo salendo sempre più su ok siamo arrivati siamo nella seconda zona del gioco appena pensate è la quarta live che faccio o la quinta e si la quinta è ancora un po' comunque buono che lavoro buono specialmente di qualifica alta cavolo buonissimo io purtroppo ho sempre fatto i lavoracci quelli proprio ultimo ultimo di ogni azienda che andavo ero sempre l'ultimo degli ultimi c'ho l'abitudine di essere l'ultimo quello che fa gavetta tutte le volte poi scadevano i contratti e non li rinnovavano classico casa Beneviento eccoci qua siamo arrivati ma che umile villa devo ringraziare Giacomino per tutti i consigli che mi ha dato oggi sono incredibili ragazzi ma che bello Resident Evil Village è un gioco clamoroso non si direbbe non si direbbe Sastim tuo fratello mi ha già detto che vuole moddarsene un po' vuole moddarsene un po' sta cercando delle mod belle per Village secondo me le troverà secondo me le troverà di sicuro veramente cioè alla fine è un gioco appena uscito è uscito da pochi mesi comunque mi fa piacere Daniele mi fa piacere eccoci qua siamo arrivati casa Beneviento avanti avanti stiamo sempre seguendo sto filo io non capisco continuo a trovare questi fili che probabilmente sono per fare le bambole ok siamo arrivati ovviamente non abbiamo una mappa non abbiamo nulla è diverso come design del castello di Mitrescu la famosa Lady di Mitrescu non vedevo ora di incontrarla e ho preso sto gioco con l'attesa ma chi è Lady di Mitrescu ma chi è Lady di Mitrescu tutta sto attesa incredibile che non mi faccio spoiler per chi è entrato non faccio spoiler non mi permetterei mai però ci sono io sulla Lady di Mitrescu io un look un ibrido fra me c'è qualcosa qui dentro c'è qualcosa ma non mi fa passare vedete c'è uno di questi scatoloni secondo me c'è qualcosa da fare non subito non subito più tardi ricordiamoci di queste stanze secondo me c'è il modo di andare lì c'è il modo di andare lì va bene è una nuova zona non abbiamo ancora incontrato nuovi nemici è tempo di creare un po' di proiettili è tempo di creare nuovi proiettili scusatemi no diario allora andiamo qua crea creiamo proiettili creiamo anche un nuovo fluido ok sta andando diciamo che il gioco sta andando bene fila liscio fila liscio e sembra proprio bello è partito proprio col botto adesso si sta calmando un attimo una zona un po' più introspettiva chiusa vero chiusa ma si si aprirà più un po' non siamo più inseguiti non c'è più nessuno che ci vuole fare del male si come no ovviamente ci saranno i nemici cattivi i nemici cattivi arrabbiati che ci vogliono fare il mazzo a strisce va bene allora eh una bambina una bambina chi è quella che è morta a nove anni poi mi chiedo io c'era una cosa che una è morta 87 e 96 sarà la bambola sarà la sorella di questa lady non lo so di questa benediento non la conosco la storia non la so ancora sono appena arrivato sono nuovo sono nuovo di village quindi vediamo un po' come va a me sembra bellissimo come luogo sicuramente una casa una catapecchia ma di qualità una catapecchia di qualità ah allora chiudi poi poi vediamo un po' va bene è possibile che sia una stanza senza nulla stanza degli ospiti non mi convince fatemi vedere per terra voi come esplorereste questa zona insomma quando arrivate nelle stanze anche voi guardate tutto o cercate l'essenziale tipo passo direttamente dove mi può mandare avanti la storia no questa non si rompe peccato sembrava vetro normale anche questo non si apre benissimo questa stanza al momento è totalmente inutile non mi convince il fatto che sia inutile ma perché sicuramente bisogna andare guidati in una zona bisogna andare guidati in una zona strano eh eccola questa qui è il ritratto di donna benediento col suo pupazzetto tranquillo e poco inquietante è poco inquietante vi dico adesso cosa volete che sia è un pupazzo che ti guarda peggio di quella dell'enigmista va bene è tempo di esplorare c'è una è una stanza che non ho ancora aperto probabilmente il gioco te la metteva davanti per fartela aprire e io mi sono dimenticato ok nuova zona nuova stanza sembra tranquilla per essere un horror è abbastanza tranquilla questa stanza si il rumore del vento adesso arriva Magus ok Magus di Crono Trigger eccoci qua siamo avanti che emozione ragazzi essere qua a giocare resentivo village soggiorno ok è un semplice soggiorno c'è qualcosa vediamo se c'è da leggere no no è impossibile perché pensano davvero che io riesco a leggere sta cosa in inglese poi certamente certamente ci conto io ci conto ci conto ci conto tantissimo guardate boh qualunque cosa sia come di pristina regola posizione ma no è un albero comunque è in quella lingua là non è inglese si you shall incomprensibile veramente questa frase qua non sappiamo cosa c'è scritto un caminetto apriamo la prossima porta va bene non sembra nulla di preoccupante stiamo continuando a girare attorno alla casa sembra nulla di spaventoso nulla di preoccupante va bene cosa c'è qua nulla questa era la porta chiusa di prima capito ah c'è un ascensore si continua a esplorare beh sì diciamo che l'atmosfera è ottima veramente tanto l'atmosfera sto gioco fidati io ti credo perché adesso mi sta calmando il gioco mi sta calmando è proprio perché io sono calmo ciao Andre siamo nella casa di una donna con le bambole e sembrerebbe una grazie Andre 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 stiamo per fare una cosa incredibile va che belli i dettagli io ti avevo mandato una foto l'altro giorno sulla play 4 ti ho mandato una foto per mostrarti quanto cavolo è incredibile ti ho mandato anche una foto di mass effect ti ho mandato una foto di mass effect se mi dai poi un tuo parere pianeti alieni io ho il fascino della fantascienza è una cosa incredibile cosa incredibile allora va bene abbiamo due stanze o vado qua o vado là partiamo da qua perché questo non ha porte si ce l'ha le porte urca no vado prima qua sto esplorando bene mi sto proprio piacendo però sai quelle sensazioni di calma prima della tempesta no almeno trovassi una macchina da scrivere ma c'è un checkpoint non devo preoccuparmi di ste cose ok gira dischi sentiamo torna sorrento no non penso alcaloide delle piante di montagna ma cosa sono brovi gli alcaloidi mi sembra no magari no alexa cosa sono gli alcaloidi e glielo chiediamo a lei secondo un'ultima col termine alcaloide si intende un composto organico contenente azoto digenico principalmente eterociclite per non più con le proprietà di una base vero ne manca alcuni no no è un è fantascienza esploro i pianeti alieni ma no ma no ma non c'è niente con la roba non mica giochi a calcio ma stai scherzando è un gioco che ai tempi vendeva 95 su 100 100 su 100 grande Andy grazie ancora devo ancora mi permette di fare un altro un altro shot out a Dragias ragazzi che ha fatto un ride incredibile veramente mi raccomando chiedo chiedo no no ma vai tranquillo ai tempi non lo conoscevo neanch'io ai tempi dicevo ma perché sto gioco 95 a me non ispirava per niente ai tempi quando io giocavo su 360 dicevo ma io non lo conosco però ha dei voti incredibili tutti dicono ma c'ha dei voti pazzeschi dei voti incredibili non capivo che cos'era sto gioco poi ai tempi l'ho giocato è diventato uno dei miei giochi di ruolo preferiti è presente a te potrebbe non piacere come gameplay in mano perché è un po' alla Skyrim quindi c'è da fare tracking ma in realtà è trama centrico quindi c'è questa storia di questo primo umano che gli vengono dati i poteri di poter esplorare lo spazio avventura è proprio di ruolo dovrei fartelo vedere ma non volevo portarlo in live è un gioco che tu esplori lo spazio esplori lo spazio profondo e scopri nuovi pianeti devi salvare la terra e la galassia da una minaccia incredibile ho notato delle cose interessanti volevo farci la foto ma mi sono pentito di non averla fatta c'era in un pianeta inesplorato una piramide una piramide insomma alcune cose sulle civilizzazioni aliene a te piacerebbe di sicuro perché qui si parla di una civilizzazione antica che c'era prima della storia conosciuta è fantastica sta cosa mi affascina tantissimo è bello poi ci sono dei sintetici i get che sono una popolazione sintetica quindi intelligenze artificiali andate a male i turi cos'è sta cosa cos'è sta stanza cavolo commetto che vorreste andare a vivere qua ma se fè figo io su ps4 sto giocando a code infinite warfare code infinite warfare mass effect ha la modestia di essere 108 giga quindi spettati una grafica spaccamacelle per essere un gioco della generazione perché abbiamo già trovato il fla oh 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 ma figlio è migliore di Ron no 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 non mi piaci non amo cos'è sta no ha rubato la pistola adesso diciamo ma ciao bella gioia come stai espamina la spalla la esaminiamo bene ma come esaminiamo cosa dobbiamo fare con sto braccio c'è qualcosa si rimuovi spalla papapapa via via vai via vai via spalla vai via assaggia la spalla vai tira 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 ok abbiamo trovato una chiave chiave d'argento non solo la pistola mi ha tolto tutto mi sono rimaste solo le muta nooo le soluzioni mediche mi ha tolto tutto ma come ha fatto a farmela sparire mi ha addormentato si vede no 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 sta cosa non me la possono far vedere però scusami l'ho amata l'ho salvata mi sono fatto tutto il set con lei e tu mi mostri sta foto traumatica no non mi va bene chiamata gente devo tagliare devo liberarla da questi vestiti va bene va bene non ci sono problemi liberiamo cos'è il corvo il corvo dimitresco il corvo dimitresco va bene muovi occhio mi sta bene poi dobbiamo trovare qualcosa tipo delle cesoie a me sta cosa non so se conoscete una cosa macabra non cercatela vi prego il black dahlia era un caso di cronaca clamoroso dell'epoca dei anello coperto di sangue scura trovate nella non so ancora il black dahlia era una donna sta povera donna di nome Elizabeth era un'attrice non di successo ma era una donna molto bella venne ritrovata in una rotaia venne ritrovata vicino ai binari morta più o meno staccata come queste cose qua ed è una cosa al ghiacciante non ho mai visto la foto per fortuna non ce la farei a reggere io purtroppo ragazzi con ste cose io non reggo io non reggo vi assicuro che non reggo però ha influenzato tanti giochi e c'è la storia anche in Elie Noir Elie Noir è un bellissimo gioco investigativo nella Los Angeles degli anni degli anni 40 mi sembra mi sembra di anni 40 di ritorno 50 ecco rimuovi braccio perfetto urca cos'è sta roba no fammelo vedere braccio inserisci devo insinare tre cose qua dentro ok avada kedavra grazie avada comunque abbiamo appena perso l'inventario è un enigma un escape room scommetto un escape room questa abbiamo perso tutto ci credo che è una zona spaventosa siamo bloccati ok grande boss ma sì la boss fight forza ragazzi insieme ce la possiamo fare notti magiche a inseguire un gol incredibile no anche se il gol non possiamo farlo però imperio cosa cosa imperio cosa mi sono perso in un'eccitazione è un'eccitazione imperio è l'imperosaurus imperosaurus intendi chiave d'argento proviamola si la apre la apre benissimo benissimo se la apre va bene ragazzi possiamo andare fatemi vedere un attimo la mappa stiamo aprendo manichino secondo me dovremmo tornarci presto con le cose che troviamo qui dentro dovremmo tornarci presto vedete ci proviamo uh ciao le tre ma le edizioni senza perdono allora avada kedavra imperio e qual'era l'altra io fra l'altro devo farmi il revwash dei film tutti di getto tutti di getto sono su amazon prime per chi è interessato su amazon prime video si trovano tutta la saga di harry potter tutta ma proprio tutta ma proprio veramente tutta ragazzi tutta non ne manca nessuno ok quindi ma allora ho aperto l'acqua quindi anello coperto di sangue lavalo 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 crucio 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 cavolo ma coin sei esperto anche tu dracarys grazie per il dracarys faccio sentire lavali questa la canta sempre Andre si si il set è diviso in due parti è diviso in due parti pubblicità no no ci sono io ci sono io come coin pubblicità ma non ho mostrato a me non è scattata la quarta ma sul mio canale ma cavolo sul cellulare non mi parte me ne vedo una ogni mezz'ora ma strana coin strana sta cosa coin maledizione senza perdono dicevo strana sta cosa pubblicità io l'ho anche abbassata e quando ho scoperto come fare sono riuscito a abbassarle al minimo minimo che si poteva fare mi sembra strano incredibile incredibile sta cosa però ti credo ti credo magari a volte vari target per esempio la fa alcuni utenti ad altri no cavolo coin magari riesco no io non riesco ok come ho detto va bene andiamo avanti allora 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 bene dicevo dobbiamo togliere le cose non qua allora prima di tutto una cosa la so una cosa la so le bene sono strette mi serve qualcosa per tagliare non adesso qui bisogna se vuole qualcosa che taglia ti do un consiglio esami l'anello che hai l'avevo esaminato ma aspetta forse c'è qualcosa come una gemma nooo il numero ma non ci credo 05 ma l'ho guardato prima e non l'ho notato ma allora sono proprio stupido io 05 29 11 non ho giocato era una battuta era una battuta sa stilo so 05 29 11 cavolo ah queste sembrano tanto quelle di di silent hill i famosi lucchetti di silent hill 29 11 bah si è aperto wow e si va avanti grazie jack veramente potevo anche scoprirlo prima solo che avevo guardato ma non c'è niente su stanello pensavo andasse aia sta musica tra un po' lo inizio anch'io guarda non ti stai spoilerando comunque in ogni caso perché è una zona come dire è una zona intermedia questa non è zona da boss fight secondo me non è zona da boss fight non mi immagino una boss fight qua voglio dire poi magari c'è allora non lo so va bene beh carina sta stanza dai anzi ma non il gioco la live ah ok inizi la live va bene va bene allora cerco di aprirtela ho fatto bene a dirmela ho fatto bene a dirmela cerco di aprirtela con google così riesco a seguirti bene allora no questo qui l'abbiamo aperto per niente apriti ci sarà qualcosa è che buio è che buio sto luogo è incredibilmente buio dai vediamo di recuperare roba utile in queste stanze ripostiglio mi segna anche qualcosa cariglione c'è un cariglione veramente mi scrive cariglione non lo vedo questo qua cariglione inserisci inserisci l'anello annunziale no un po' inserisci la chiave a carica perché è un cariglione esatto carica no direi che non va bene quando questo è sbagliato sbagliato io sbagliato io questo qui va qua perfetto 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 ragazzi è giusto funziona e vai pinzette ora possiamo aprirla finalmente possiamo aprire la bambola con le pinzette infatti possiamo guardare la bocca la bocca la bocca della bambola prima o poi ci dovevo arrivare è normale essere spasati la complicanza base di chi inizia ma sai che io ho giocato a livello competitivo Call of Duty 4 su Xbox 360 e devo dire veramente come gioco ai tempi mi piacque molto l'ho trovato innovativo multiplayer ottimo aveva i difetti che avevano all'epoca i server ovvero non erano eccezionali quei server ma è comprensibile non vorrei che ci fosse ancora qualcosa che non ho guardato in questa stanza tanto che ci sono tanto che ci sono vado a vedere ancora in questa stanza qua vi guardate che c'è qui dietro qui dietro dovrebbe essere qualcosa no nulla vabbè dai andiamo indietro ok come ho detto scusatemi è che sono estremamente curioso in questa zona sono estremamente curioso va bene se vado di qua mi fa andare allo studio va bene devo chiudere la porta ma ditemi voi che mi tocca pure chiudere le porte si è aperta da sola non è bella sta cosa è assolutamente inquietante va bene andiamo avanti di qui ci sono stato sì dove c'è il manichino allora facciamo subito la facciamo subito la bocca ragazzi un'altra persona l'avrebbe fatta puff all'istante sta roba oh cavolo la donna è incinta la donna è incinta ok assolutamente tutto normale pinzetta per la bocca per il pinzetta per la bocca ok va bene infiliamoci la pinza così prendiamo questo pellicola sembrava impiccata eh lo so ma è inquietante questi sono impeccate va bene pellicola trovata nella bocca della bambola abbiamo di capire regola posizione qui non c'è niente sì c'è qualcosa allora sono due sono due sono due scimmiette le scimmiette le scimmiette che perché c'è la voce di mia perché c'è la voce di mia perché sento la voce di mia anche qua non è normale sta cosa ok salviamo non si sa mai non ci saranno nemici ma salviamo lo stesso va bene ok abbiamo una pellicola ci vuole qualcosa per infilare sta pellicola magari nello studio di prima ciao clama ma veramente ci clama no ancora un po' presto perché la luci che se ne vanno vabbè tutto normale si vede che è un gioco oro tutto normale ok insomma ripeto tutto normale non posso andarmene interagisci chiave da oggi ma va ma no questo è per andarsene via da qua va bene nuova zona ci caschi più con questo che con discord per forza perché ultimamente discord ce l'ho aperto ma io con ciao clama perché ce l'ho sempre chiuso discord per quel motivo lì non c'è la possibilità che mi posso confondere l'inizio dove sei arrivato capito dove sono arrivato all'inizio allora aspettare aspettare la zona lì un po' presto questo qua lo studio qui c'è un qualcosa me lo ricordo sta zona no l'abbiamo fatta però non ho letto sto messaggio un secondo si è qui la pellicola buono ci siamo è fatti infatti vero il miglior amico di rose in tutto il mondo rosa adora questa favola la cosa più importante della nostra vita un regalo di nozze della nonna la prova dell'amore e della vita allora perfetto facciamo pellicola allora la cosa più allora prima migliore amico migliore amico il pupazzo ovviamente chiaramente pupazzo poi favola villager of shadow bellissima favola che le leggeva la madre la cosa più importante beh la vita penso regalo di nozze l'anello no la prova dell'amore all'anello regalo di nozze carillon vediamocelo tutto molto normale tutto molto normale ok una scala una scala in un pozzo che ti manda giù una scala in un pozzo che ti manda giù va bene grazie a tutti grazie a tutti